Stamattina è stato proprio un bruttissimo risveglio perché veramente siamo esausti, non ne possiamo più. Sala 21 il numero di assalti nell'azienda di Preziosi del distretto di Arezzo. Nella notte l'ultimo colpo attorno a l'1.30 quando una banda è entrata in azione a Borghetto di Monte senza vino. Nel mirino la ditta Scatraghi. I ladri, almeno quattro, hanno sfondato la porta dell'azienda, probabilmente con un ascio e portato via l'argento in lavorazione. L'allarme è scattato ma all'arrivo delle forze dell'ordine i banditi si erano già dileguati. La banda per guadagnarsi la fuga e ritardare l'intervento delle forze dell'ordine ha anche piazzato sulla strada la provinciale 327, un'auto e due furgoni rubati nella zona la notte precedente. Se ci fosse un presidio del territorio probabilmente questo che immagino abbia necessitato di un tempo prolungato non sarebbe successo. Rasta ancora da quantificare il bottino, le indagini sono in corso da parte dei carabinieri che stanno cercando di raccogliere elementi utili per identificare i responsabili. Bisogna proteggersi da soli ma non basta perché comunque anche la ditta di stamattina, di stanotte, aveva comunque tutti i sistemi di allarme e quindi volevo dire non aveva lasciato niente al caso. Prosegue così la scia di furti sui quali è stato aperto un tavolo in prefettura. Nelle ultime settimane erano stati anche potenziati i pattugliamenti. Io faccio un appello al governo centrale affinché ci mandano delle forze speciali ma l'esercito serve qui per presidiare il territorio un mese, due mesi, tre mesi, quanto basta per interrompere questa escalation di furti che non si può più sostenere. Grazie a tutti.